si parte sicilia mari e monti etna ma soprattutto mare etna alla ricerca di condizioni critiche real real critica dobbiamo caricare un inferno di materiale per due persone attrezzatura e cane su 540 e tutto all'interno ovviamente niente di appeso se no ci rubano fuori tutto ce la faremo mai speriamo di sì forse sì forse no super disastro il nostro obiettivo è quello anzi il nostro sogno è quello di andare sull'etna e trovare condizioni critiche ovviamente come il nostro canale critica il condicio perché non siamo sciattori della domenica quindi sperando di poter fare snow kite quindi snowboard sci da freeride scarponi per due bussolotto con dentro tutto l'abbigliamento pesante da montagna ali cassonate e questo per quanto riguarda la montagna ci si sposta al mare ser da onda quattro tavole mute 42 a testa anche l'idrofoil e materiale per fare kitesurf pompe eccetera eccetera trapezzi e menate vale anche il materassino gonfiabile perché non sappiamo ancora non abbiamo ancora pianificato se fare tutta statale fino giù a reggio calabria o imbarcarci a napoli poi se non c'è condizione noi ce ne frega niente ci imbarchiamo a palermo andiamo anche in sardegna purtroppo volevamo andare in marocco ma per motivi di tempo rimandiamo il tutto questo è il buco ragazzi dove deve starci tutto adesso e iniziamo il carico che doveva partire doveva partire urgente una curiosità ragazzi il tavolino come vi ho già fatto vedere i miei allestimenti per quanto riguarda il valo di carico quindi è vuoto c'è solo questa borsa questo è l'ingombro del potty questo invece è un tavolino che sembra un perro da stile in realtà è una cosa molto pratica per riuscire a parcheggiare le tavole da surf in questo modo in modo da parcheggiare sia sopra che sotto materiale sportivo iscriviti al canale da 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 c'è stato tutto critical condition fase prima superata ci siamo abbiamo solo 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 lasciato a casa il longboard purtroppo il carrozziere maledetto ci ha fatto lavoro in ritardo però che lavoretto non volevamo accrocchiare un portasurf posticcio lo faremo se c'è onda bella rubiamo le tavole ai nostri amici ecco vi faremo vedere anche poi il lavoro finito ma rimane un segreto e intanto il lavoro finito di carrozzeria è un van di un colore unico veramente siamo contenti ci vediamo in viaggio ciao ciao